Grazie e bentornati in un altro video Allora, questo qua è un video acquisti Video haul Sono stata da Tigotà E quando io entro da Tigotà Entro che devo comprare due cose E esco sempre con mille cose Quindi ormai lo so, infatti cerco di starci alla larga Però oggi dovevo andare Perché mi servivano delle cose Ovviamente poi nel carrello è saltato giù anche qualcos'altro Sono acquisti che ho fatto Vabbè una borsa appunto è di oggi Poi ho tre cosine da farvi vedere Che ho preso tipo 20 giorni fa Però sempre a Tigotà Sempre con le offerte che ci sono adesso E sono due bagnoschiuma Già vi ho messo la foto su Instagram Quindi qualcuno già l'aveva visti Sono due bagnoschiuma della DAV Questi qua che sono in offerta A 1,49 euro mi sembra Ecco che è arrivato anche Vieni amore Vieni a vedere anche tu gli acquisti che ha fatto la mamma Non so se lo vedete Vabbè Ok ci siamo E allora ho preso questo qui Che è bagno doccia nutriente Con crema di mandorla E fiori di ibisco E a me piacciono tantissimo Questi bagnoschiuma qua della DAV Perché sono veramente molto cremosi E lasciano una pelle morbidissima Dopo che li usate E mi ero innamorata di quello al pistacchio E pistacchio e magnolia Mi sembra Però ho detto per cambiare Provo altre profumazioni Quindi ho preso questa E questa qui Ha il profumo di mandarino E fiore di tre Di tiare Che è un po' più estiva Un po' più primaverile Come profumazione Quindi questi due Sono 500 ml Quindi insomma È parecchio prodotto Poi ho preso Due profumi Perché sono in fissa Con i profumi In questo periodo E tra l'altro Ci sono le offerte Anche appunto A Ticotà Su Tesario d'Oriente E profumi Thermamed Già vi ho fatti vedere Comunque alcuni acquisti Nel video appunto Sui prodotti profumosi Del periodo Ho preso Sono tornata E ho preso Talco Iris Della Thermamed Questo qui E è buonissimo È molto intenso Come profumo Sta proprio di talco E siamo circondati Dai gattini Oggi Vieni qua Fatti un po' vedere Che tu non ti fai mai vedere Ehi Fatti vedere quanto sei bello No Ciao Arrivederci Poi ho preso Invece Consigliato Da Greta La Gretaccia Perché ho visto Che appunto Lei ne parlava benissimo Ci sono peli Che volano ovunque Il Tesario d'Oriente Che è quello Col giglio blu Del Nilo Spero che si veda qualcosa Perché è un po' specchiato E è buonissimo Questo qui Già l'ho messo Parecchie volte E tutti mi chiedono Che profumo indosso Appena lo metto Insomma È veramente buonissimo E sono in offerta Anche questi A 2,99€ Poi Allora Inizio con gli acquisti Che ho fatto oggi Oggi è una giornata grigia Per cui ho detto Perché non andare a Tegotà E vedere un po' cosa c'è Mi tiro un po' sul morale Ecco Ovviamente Ma so che voi mi capite Ho preso Due ammorbidenti Uno era in offerta Uno no Ho voluto riprendere Ho voluto riprendere Sì Questo qui Della coccolina Quello per i bambini Insomma Più delicato Questo qua bianco Sono 750ml L'ho ripreso Perché è il mio preferito E niente Sono arrivata A questa conclusione Questo qui è il mio preferito Ha un profumo buonissimo Di pulito Proprio di bambino E persiste tanto Anche sui vestiti E quindi l'ho ripreso Simba Oddio Poi invece ho preso Questo qui Della Lenore Che ha risveglio Primaverile Che hanno anche Questo packaging Un po' strano Sono 711ml Cioè 711 Va bene E questo qua Di la verità Non so come sia Perché non l'hanno usato Buono Sì è fiorito Buono Mi piace E questo era in offerta Non mi ricordo i prezzi Però Vediamo se recupero Lo scontrino È un casino Sto video Allora E dunque Dunque Il coccolino 1,79€ E Lenore In offerta 1,35€ Poi Ho preso Questo Panno In microfibra Per la cucina 3 in 1 Strisce pulenti Antigraffio Comunque insomma Mi serviva un panno Per la cucina Perché il mio Era Andato E ho voluto Prendere questo qui Sì ma basta Smittila Questo qui Costava 1,49€ In offerta E tra l'altro Dentro c'è anche Una confezione Da 15ml Un campioncino Di smac Brillacciaio Quindi questo qua Poi Ho ripreso Per la Tipo Quarta volta Il mio amato Winnis Multiuso Questo qui Io mi ci trovo Benissimo Sono 500ml Purtroppo Non era in offerta E vi dico Anche quanto costa Ma comunque Non costa tantissimo Dov'è che Winnis Multiuso 1,69€ Mi ci trovo Benissimo Pulisce benissimo Lo uso per tutto E lo continuo A ricomprare È un profumo Che amo Quindi Ve lo consiglio Perché è veramente Buono Poi Altra cosa Che ho preso È questo qui Il profumo Glade Praticamente Io ho il diffusore Insomma Quello spruzzo E questa profumazione qua Velvet Tea Party È la mia preferita Quindi l'ho ripreso Ancora Mi piace tantissimo È veramente buono Poi Ho preso Vabbè L'ammoniaca Ah non vi ho detto Il prezzo Del Glade Il profumo Del Lì la ricarica Glade Di N349 È l'ammoniaca 0,54€ Questa qua Insomma è quella profumata E mi ci trovo bene Ma la prendo sempre Per me è un'ammoniaca Vale un po' l'altra Ecco Poi Hanno messo La Winnis La linea per L'igiene personale Non l'avevo mai vista lì E quindi adesso L'hanno messa Ho scusato un attimo Che apro il gatto E vi dicevo Che ho voluto prendere Quindi il detergente Intimo Con antibatterico naturale Non ho preso altro Perché veramente Sono piena di prodotti Però volevo prendere Qualcosa per provarlo Sono 250 ml È certificato Icea Quindi c'è questo qui E niente Insomma Proveremo com'è Questo qui l'ho pagato Mi sembra 3 euro e Sì 3 euro e 88 Quindi non pochissimo Per essere 250 ml Insomma Non è proprio conveniente Ci sono quelli della Ecos Mi sembra che costano un po' meno E anche più quantitativo Poi Ho preso Ho trovato Della Ecos Appunto Uno stand Con tutte le mini taglie Io amo le mini taglie Di tutti i prodotti C'era il detergente intimo Tutti e due Poi c'erano i bagnoschiuma C'era lo shampoo C'era un po' di roba Insomma Io ero incuriosita Dal balsamo per capelli Perché non l'ho mai provato Però visto che sono piena di balsami Non mi serviva assolutamente Però ho visto La taglia piccolina Da 75 ml Ho detto Ma dai Insomma Per provarlo 1,49 euro Questo mi ricordo Quanto costava E quindi Ho preso anche questo E sono curiosa di provarlo Perché ne sento parlare Veramente bene Quindi Ho voluto prendere Anche questo qua Poi Ho preso un altro profumo Tesori d'Oriente L'ennesimo A 2,99 euro Questa volta Ho voluto prendere Il vaniglia e zenzero Del Madagascar Io amo la vaniglia Non l'ho usato Perché Non apro mai I prodotti Appunto Nei negozi In omaggio Con il profumo Vi davano anche Questa doccia crema Aromatica Tesori d'Oriente Una taglia Da 100 ml Comunque abbastanza prodotto E questa qui Al muschio bianco In realtà A me L'ha andata solo Questa volta Questa mini taglia Però sul volantino C'è scritto Che teoricamente Ad ogni acquisto Che fate del profumo Dovrebbero darvela Probabilmente le altre volte Si sono dimenticati Ma Insomma Vabbè Fa lo stesso Può succedere E poi Ho preso In offerta Una saponetta Dei provenzali Extra dolce All'estratto Di Ribes Questa qui La usa il mio ragazzo Per farsi la doccia E L'ho pagata La saponetta L'ho pagata Perché non la trovo? Ai provenzali 1,99 euro E sono 150 grammi Quindi È una bella Saponetta grande E poi Ho preso Come ultima cosa La spugna Questa qui Insomma Che uso Per togliere le maschere Perché la mia L'avete vista Nel video Dei prodotti finiti Era morta Perché Insomma Se era rotta Ma ce l'avevo Da tanto tempo Per cui L'ho ripresa E La spugnetta La spugnetta Costa Ma io non trovo Mai niente Ma è possibile Di che marca è questa? Ok 2,99 euro Anche questa Non poco Però c'era solo quella E mi serviva E niente Ragazze Questo qua è tutto Lo shopping Che ho fatto Oggi Non solo oggi Da Tigota E niente Noi ci vediamo Nel prossimo video Spero di avervi tenuto Un po' di compagnia Un bacione Ciao